Siamo in Calabria a Diamante e non è concepibile, non è concepibile che ci siano dei graffiti sui muri, ste cose mi fanno incazzare. Diamante è famosa proprio per i murales, sui muri. Com'è famosa per i murales? Sì. Ma com'è famosa per i murales? Come cazzo è possibile che questo paese è famoso per i murales? Cioè ma non è possibile. È famoso appunto per questo, è anche a livello mondiale. Porca ma adesso devo rifare tutto, devo rifare tutto, adesso io qua chiamo di quello, non è possibile, non è possibile. Allora ragazzi siamo in Calabria e siamo precisamente a Diamante e visiteremo i suoi fantastici murales sui muri. Questo murales è dedicato alla cultura marittima hawaiana, ogni murales è dedicato a una cultura particolare di questo mondo. Vediamo questi graffiti fantastici sui muri. Questo graffito è bello. In ogni graffito c'è un significato ben ben preciso e in una buona parte di questi graffiti c'è anche una scritta, una scritta da interpretare. Allora... Pag.